Un protocollo d'intesa è stato siglato tra la Regione Puglia e l'Associazione Città dell'Olio. L'obiettivo è valorizzare i territori produttori, ma non solo. Il fine è anche quello di promuovere progettualità sul tema e il recupero degli oliveti abbandonati. Damiana Sgaramella. Promuovere progettualità specifiche sul tema del turismo dell'olio e del recupero degli oliveti abbandonati. E' questo l'obiettivo principale del protocollo d'intesa per la promozione e la valorizzazione dei territori e della cultura dell'extravergine di oliva della Regione Puglia, tra la Regione Pugliese e l'Associazione Nazionale Città dell'Olio. La collaborazione tra l'ente regionale e l'associazione coinvolge circa 400 comuni in Italia, di cui 35 in Puglia. Grazie all'esperienza maturata nei 25 anni di attività, la Regione Puglia riconosce all'associazione il ruolo di interlocutore e partner in tavoli e task force riguardanti le politiche olivicole regionali, il turismo dell'olio e il recupero degli oliveti abbandonati. Il fine è anche quello di definire un piano regionale olivicolo sugli indirizzi di quello nazionale che affronti le tematiche di sviluppo e innovazione per il miglioramento della competitività e nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e del paesaggio. Il protocollo servirà inoltre a promuovere progettualità specifiche volte alla maggiore tutela e conoscenza della qualità dell'olio extravergine di oliva, sviluppando in particolare il tema del turismo dell'olio, con una particolare attenzione alla formazione della filiera agricola e turistica, anche attraverso il ricorso a specifici fondi europei, diffondere la conoscenza dell'olio extravergine di oliva e dei suoi territori di origine, definire iniziative comuni per la valorizzazione dell'olio extravergine regionale, partecipare a fiere di settore nazionali e internazionali in un'ottica di promozione integrata e specifica per il settore, ed infine partecipare a progetti specifici della ristorazione di qualità italiana, volti alla valorizzazione delle specificità regionali.